Mentre si allontana il giorno in cui si potrà tornare a sgambettare in un campo di calcio e in un parco pubblico, arrivano nuovi rincari per l'utilizzo delle strutture sportive comunali. L'esecutivo di Piazza del Popolo ha provato infatti la delibera dell'assessore allo sport Giacobbe che prevede l'aumento generalizzato del 15% delle tariffe varate l'anno scorso. In questo modo, stanti le difficoltà relative al predissesto, l'amministrazione potrà coprire nella misura del 43% i costi complessivi di gestione. Lo scorso anno era riuscito a farlo solo in relazione al 37%. Una decisione, quella già assunta formalmente, che nasce anche dalla constatazione che, conti alla mano, le spese di gestione superano di gran lunga i ricavi dei anti-decanoni. Nel 2019 le prime ammontano a 114.773, i secondi ad appena 43.193. Importi questi che riguardano la tendostruttura del Campo Coni, il Campo Roca di San Tommaso, le palestre scolastiche, la struttura polivalente di via Oscar d'Agostino e la palestra dello Stadio Partenio. Ma nella delibera si fa riferimento anche agli impianti più importanti, lo stadio di via Zoccolari, naturalmente il Pala del Mauro e la piscina comunale. Qui vengono confermate le precedenti disposizioni. Per quanto riguarda la Casa dei Lubi del Calcio, perdura la convenzione sottoscritta giugno scorso e per i 12 mesi con l'Avellino, ma il canone di 114.242 euro, IVA inclusa, è stato quasi completamente evaso. La società sportiva risulta infatti morosa. Non a caso, come è noto, è già partito un avviso di sfratto. Per il Palazzetto dello Sport, l'esecutivo ribadisce di essere intenzionato a redigere un nuovo bando per l'affidamento della gestione. Non solo, nella delibera c'è spazio anche per altre due strutture, sportive cittadine. Per finire, nella delibera di Giacobbe viene espressa la volontà di affidare gli impianti sportivi comunali situati rispettivamente a Rione Parco, Valle e Picarelli, proprio per garantire la custodia e la gestione degli stessi.